Abbiamo buttato nella spazzatura quasi 10 miliardi e mezzo di cibo, soprattutto pane, frutta e verdura. Questi i dati presentati all'ultimo rapporto sullo spreco alimentare in Italia. È assurdo perché in realtà sono soldi che finiscono al patto merma, dovremmo investire degli altri soldi poi per smaltire i prodotti. Sono dei rifiuti che poi inquinano, quindi davvero è assurdo. Una buona gestione dell'economia domestica, come si diceva una volta, basterebbe per limitare lo spreco e per mangiare meglio. Ma ci sta anche una perdita nella filiera, cioè dal campo al mercato? Ecco, facendo 100 campo tavola, diciamo, 70% sta a casa nostra, quindi è il primo obiettivo. 30% però sta nei campi, nell'industria, nella distribuzione. Possiamo essere più efficienti, più sostenibili e limitarle ed è un'azione molto importante anche questa. Il rapporto evidenzia un aumento degli sprechi del 15% rispetto al precedente bilancio. Questo, secondo i relatori, può essere spiegato con il progressivo ritorno alla vita sociale che avrebbe fatto calare l'attenzione al cibo. E noi non siamo neanche più spreconi. I dati FAO riportano che oltre un terzo del cibo prodotto nel mondo viene buttato. La causa principale dello spreco alimentare è un sistema produttivo che privilegia esclusivamente la quantità e non la qualità. E nello stesso tempo si è convinti che il basso costo dia diritto anche a sprecare di più. Questo deve finire.